Cosa fai in quel di erba? Disoccupato. A 57 anni ormai ci sono poche possibilità di lavoro. Pallino vive con la mamma, vero? Esatto, con la mia madre. Io questo lavoro qui lo faccio anche per fare amicizia con la gente. Purtroppo la solitudine mi accanisce. Vorrei che le persone si avvicinassero di più. Vorrei scambiare due chiacchiere, uscire magari anche a bere un caffè, mangiare una pizza e socializzare. Che mani, proprio questa energia? È più positiva? Insomma, qualche amicizia è arrivata. Allora sono andato a Milano, così a fare una passeggiata, ho visto questi artisti di strada e ho detto se lo fanno loro perché non posso farlo anch'io. Allora mi sono ingegnato e ho detto procurano a casa, faccio una cosa diversa dagli altri. Allora mi sono andato a casa, faccio una cosa diversa, a casa.